0-0 nello scontro diretto tra Sanluca e Vigor Lamezia per il campionato di eccellenza. Un risultato che fa mantenere imbattute le due squadre, peraltro sono le uniche a non aver perso ancora in questo campionato in 21 partite. Per il Sanluca può stare bene tranquillamente il pareggio, anche se si vede accorciare dalla Regio Mediterranea che ha vinto in casa contro il Codronae, mentre Vigor Lamezia prosegue nella sua posizione in classifica che aspira ancora a potersi giocare il campionato fino alla fine. Certo che per il primo posto ci sono sei punti di distacco, però quantomeno per il secondo posto con la Regio Mediterranea può ancora giocarsi la squadra Lamettina alla posizione in classifica. Una partita abbastanza bella tirata, il primo pareggio della nuova gestione di Angelis per il Sanluca invece continua la marcia positiva, come dicevamo con 12 pareggi in un campionato della formazione di Rosario Salerno. D'altra parte manca una giornata in meno per arrivare alla fine del campionato e quindi probabilmente le posizioni in classifica resteranno ancora incerte fino alla fine.